5.000 mi piace su questo video se volete ma dovevo registrare ma che sta a fare ovviamente per chi ci ha già seguito in passato sa che serie sta per ritornare quindi ve lo dico immediatamente 5.000 mi piace su questo video ma ve ne chiedo 5.000 solo perché siamo sul secondo canale sul primo ve ne avrei chiesti 10.000 se volete subito un nuovo episodio ma vi ricordiamo che al raggiungimento dei 5.000 mi piace nel prossimo episodio prima di tutto arriverà la penitenza che deciderete voi qui sotto nei commenti come funziona la scrivete il commento che riceverà più la penitenza che riceverà più mi piace sarà quella che dovrà fare il perdente sempre se parliamo dei penitenzi fattibili ovviamente tirabbero fuori la cosa non si possono fare quelle le le scartiamo detto questo ciao non mi ricordo su salutato ciao per chi pensava faccia ah ah no devi dire che cosa andiamo a fare allora io sto già vendato e quindi c'è un passo avanti adesso andiamo a fare uno spacchettamento ma come però in pratica spiegalo tu non te va a dire vabbè ce penso io vai indovina l'icona da vendato challenge in tanti diranno come l'icona ragazzi miei su questo account che vi stiamo per far vedere abbiamo riposato appositamente due icone ma non solo perché ovviamente ci sono degli argentini che andremo a spacchettare semplicissimo lui adesso è vendato io pesco un calciatore lui non sa che cosa pesco io posso bleffare quindi di mamma mia che belva ho trovato è in realtà una pippa poi gli propongo tre nomi se lo becca ovviamente fa un punto alla fine chi vince della puntata chi fa più punti chi perde paga penitenza detto questo semplicissimo guarda dove non hai capito quello che così bravo no 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 un'altra collezione con due icone ovviamente ne spacchetterò una io e una fabio e quindi poi l'uno proporrà all'altro secondo te chi ho pescato comunque ci stanno bergamp van bastan beckenbauer rumenigge raikard ignesta gullit beckham del fiero nedved pujol vieira roberto carlos fernando torres i detoshi nakata nakata che dirse voglia e pippo inzaghi diciamo che un po ristretto il range si non sono tantissime sono sedici se non ricordo male il totale assolutamente sedici però che sta a fa dove stava un attimo a calare quindi la restringo allora andiamo su agenti speciali perché in realtà qualcosina di pesante c'è io partirei con un pot a si e ti vado a proporre ti dico quelli che sono ipot si così rinforziamo anche questo questo allora cross gundogan meret bergwis beyerin trinco trenzo veretù hallar di di diego carlos e bastoni io adesso pesco poi faccio a lui la proposta e vediamo che cosa ci esce fuori però mi faccio una foto così poi posso tranquilli perché non mi posso ricorda tutti non so se c'è bravo ecco qua così poi te li propino e almeno posso provare a bleffare e poi fammi fare la stessa cosa a me ovviamente poi te passo la foto allora paga con monete my club e conferma vediamo un po chi pesco e se il buon fabio è in grado di indovinare mi raccomando che se stanno iscrivetevi attiva da campanella atrofizza le palti chi è veramente chi è addio addio mamma mia che bucciardo mamma mia non ci posso credere che bucciardo cioè ragazzi miei guarda sto pacchetto mamma mia che cosa è uscito fuori allora allora caro mio la scelta è tra vere tu bellerin e aller ok che fai bellerin bellerin e puoi toglierti la quindi non sei riuscito e dove sta raffamare l'occhio qui trovi i calciatori quindi devi aprire questo pacchetto va bene va bene va intanto ben vendete tanto per cominciare mi ha vendato vai ok non l'atalanta intanto mandiamo sto sto aller tra i membri my club eccolo qua abbiamo aggiunto ci ha regalato pure un argentino di esperienza da mille va bene e allora adesso mi prendo il tuo telefono vai pesca vado a pescare paga e conferma va benissimo fai una posa addurisate va fai una posa addurisate cominci a propinare i nomi bimbi my club si comincio a propinare i nomi attenzione no lo sapevo no non ce posso credere oh l'unico l'unico del pacchetto che volevo in squadra mia che avrei voluto in squadra mia oh porca bucciardo vai eh vabbè e non ci credo vabbè vai dai propinami i nomi dai allora berguis si didi si e vere tu bastagno dai didi leva non mi dica era vere tu veramente nooo 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 ci sono andato vicino però ho detto uno tra berguis e dd niente non è andato vabbè putteggio quindi di zero a zero zero a zero esatto vabbè senti va che facciamo però aspetta allora ti faccio dare un occhiaccio sta il pacchetto napoli che mi pare interessante sì non è male perché sta colibali che hanno fatto dai facciamo il pacchetto napoli ok quindi io ci scatto la foto ti scatterò una foto vai eeeh colibali fabio ruiz e zielischi mertens ma lo lasse rosano bagaioco mario russi ma tanto te li ricordo e te li propino va bene va bene non appena ti sei legato per bene vai vai senza fare il furbo e vai io vado a pescare io purtroppo ho l'impedimento della cipolla dietro sì certo paga con monete my club no e conferma e conferma vediamo che succede allora ovviamente è il campionato italiano e credo che tutti lo abbiate compreso di conseguenza chi è chi è ma chi è eeeh sto cazzo ma chi è eeeh chi è ma chi è no 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 oddio oddio allora vai forza lo sanno zielinski mertens lo sanno guarda no porca miseria adesso vuoi fare il tuo pacchetto Napoli mamma mia qui ci hai il pacchetto sulle mie gambe sì dabbè va vai in teoria sta sfida la facciamo al meglio dei sei che dici eeeh dei sei totali facciamone cinque eh facciamo cinque per uno che dici sì facciamo cinque per uno e vediamo che succede dai allora ariannamo paga con monete my club e conferma vai dabbiamo se affatto risale questa che è la seconda tua o la terza la seconda questa è la mia seconda sì ovviamente ragazzi come già dicevamo prima campione d'italiano calciatore del Napoli questo già lo sappiamo e sappiamo anche che è un pallone nero perché sono tutti palloni neri sì eh 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 sì allora allora chi è Bagaioco Kulibali e Mertens hai detto Kulibali che è il più forte poi hai detto Bagaioco e Mertens doppio Mertens doppio Mertens oppure eh Kulibali Kulibali scopri guarda questo Mertens questa oh mamma mia tu dici ho detto mo dico Mertens io fossi stato in te avrei detto Mertens tutta la vita perché era doppio cioè era probabilissimo che capitava il doppio infatti stava strippata che mi sgamavi non è probabilissimo eh lo so però tante volte succede che te capita il doppio coprite vai me copro allora alla tanta io direi che fa quelli dell'Atalanta e ci faccio anche una fotina gli attributi e cose nonne faccio quello che te pare ecco bravo die parolacce ok la foto è fatta io so pronto allora Irisic Zapata Cosenza Jim City Aterburn Malinosky Romero e Froyla di conseguenza io vado a pescare pagando con monete my club e confermando questa è la terza pescata la terza la terza mia vero la terza ok vediamo ok pure quasi tutti i palloni neri no ok 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 sì sì allora vediamo un po' Froyler Malinosky Atebur Malinosky Guarda bebe 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 e ok terza tua il pacchetto lo trovi qui vai il pacchetto lo trovo qua andiamo avanti ragazzi preparato l'esperienza 2.000 vai ad alanta paga con buone dei club e conferma mamma mia mamma mia eccolo è sta arrivando sta arrivando si immagino sta arrivando eccolo qua è un pallone nero no ma dai ovviamente è un pallone nero ok tranquillo non muovo i suoi botti pesanti vai ok jim city ilicic malinovski malinovski che buccio che culo l'apiato che buccio 1 a 0 per me ragazzi miei 1 a 0 per me ragazzi miei culo in bocca e cala e cala e cala allora adesso e andiamoci a fare o aspetta qua con l'iconic moment e l'arsena diventa un macello sono troppo allora io rifarei io faccio quello del napoli ok tu fai il potto ok poi dopo facciamo atalanta e iconic moment l'iconic moment sono due una sola facciamo un secondo video tranquillo pacchetto napoli 1 a 0 per me paga con monete my club e conferma e vediamo che ci esce fuori possiamo anche fa molto dopo li fai atalanta e poi facciamo uno iconic e uno potto come da fare allora vediamo un po quello che si affamu a napoli mamma mia mamma mia rega mamma mia mamma mia allora allora Mertens Mario Rui e Zielinski Mario Rui vai l'ho beccata sto giro l'ho beccata sto giro dai dai 1 a 1 che cavolo forza 1 a 1 dai vareggia subito i conti quindi mo che me docca fa? fate quello dell'Atalanta dai quello dell'Alatanta dai eccolo qua agente speciale club selection alatanta paga con monete my club e conferma dai 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 forza dai 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 i mortacci my club ovviamente no non lo sapevamo non l'avevamo capito dai bellissimo si ecco fatto ecco fatto lo sapete ecco fatto questo è il castello di sabbia di carta si ecco fatto lo sapete lo sapevamo lui lo sapeva Jim City Ilicic Marinoski l'altra volta i stessi di prima va Jim City Ilicic Marinoski vai bello Iosip, bello Iosip, bello Iosip, ma se è una cosa che se finisce in parità la penitenza tocca pagare la luta in due, ecco fatto, ecco, vai, quindi mo che se favo? eh allora adesso allora io faccio il pot e tu mi fai, io faccio il liquore, vai, ok, allora noi abbiamo pescato del pot, sia Bergwis che chi altro? Haller, ok, vado eh, aspetta che venga, aspetta che si sono picciati i capelli, porca puttana, ecco che deve dire parolacce, non è contento ovviamente dai, me sto ammazzà, vai, vai, te, conferma, ho paura ragazzi, ho paura, oddio, no ancora ancora non è, ancora manco si sta al campionato, già, oddio, allora no, non ci posso credere, no, non ci posso credere, no, non ci posso credere, no, non ci posso credere eh, fossi matto, allora, Gundogan, Toni Kroos o Meret? Gundogan, guarda porca puttana, Toni Kroos 93, cioè questo mi servirebbe all'account mio, ma pure al tuo un 93 de over all a centrocampo, 93 livello 1, cioè regà, mamma che pescata che avemo fatto, cioè regà, avevo fatto una pescata clamorosa ragazzi miei, e mo tocca a te con l'icona, tocca a me con l'icona e dobbiamo fare la foto agli obiettivi, no, è della, è della, eccola qua, fa profilo, ragazzi se ne volete subito un altro, abbiamo la seconda icona da spacchettare, eh, quindi fate voi, eh, guarda, fa la foto solo a questa perché tanto l'ultimo sotto è Inzaghi, c'è solo Inzaghi? Sì, sì, c'è solo Inzaghi, la foto è fatta, ma tu non te perdi la scenografia rosa, te perdi, vabbè, me la recupererò quando editerò il video e quando lo rivedrò, vai, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, allora, usa aggiunte, vuoi davvero usare questa aggiunte? Vai, certo che voglio, eccolo qua, eh, qua è difficile, quante sono, sono 16? Sono 16, però, ovviamente, mamma che bello, mamma che bello, mamma che bello, ovviamente tra tre scelte, fammi vedere il telefono, mamma mia, c'ho paura, ecco fatto, se pareggiamo toccava cappini terza tutte e due, ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? No, 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 no le bombe. Sono tranquillissimo, vai. Sei pronto? Allora, Iniesta, Rummeligge e Nakata. No, che bastardo. Cioè mi vuoi spingere a Din Nakata, però potrebbe essere psicologia inversa. Iniesta. Ho fatto la mia scelta. Guarda, è Nakata. Sta già a ridere. Posso cambiare? No. Un curata. È Nakata. Raga, Nakata. Che testo di cazzo, raga. Che comunque 89. 89. 89, però c'è rimasto pulato pienamente. Eh, ridistocato. Ah, a te che te frega, perché tanto diciamo che è uguale. Ok, allora. Penitenza qui sotto. Quella con più mi piace e più fattibile la faremo nel prossimo video. Quanti mi piace? Almeno 5.000. Almeno 5.000. Se volete, il prossimo rifacciamo la stessa cosa. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi per entrambi i canali, i profili social, mi stanno con me sulle serie e sulle serie A, alla prossima un nuovo video. Ciao. Ciao, raga. Guarda, che infame. Ciao. La penitenza è tutto il video. Cattolica. Ma...